Leonardo del Vecchio è stato uno dei protagonisti assoluti dell'imprenditoria italiana, leader indiscusso della produzione e distribuzione di occhiali di lusso di fascia alta, ma anche sportivi. Conosciamo insieme più da vicino la storia di Leonardo dal Vecchio e di Luxottica, la sua grande azienda. Prima però, se ancora non lo hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Leonardo del Vecchio nasce a Milano nel 1935 ed è il più piccolo di quattro fratelli. Il padre, un commerciante pugliese di frutta, morì poco prima della sua nascita. A causa dei problemi economici che incombevano nella famiglia, Leonardo viene affidato al collegio dei Martinit, dove passa la sua gioventù fino al diploma di terza media. Ma già all'età di 15 anni non perde tempo e va subito alla ricerca di un lavoro. Entra in una piccola fabbrica milanese che produce medaglie e coppe, dove lavora come garzone. Ancora non lo sa, ma è proprio da quella fabbrica che inizia il suo percorso straordinario nel mondo dell'occhialeria. Devi sapere infatti che l'azienda milanese per cui lavorava produceva, oltre delle coppe e medaglie, anche montature in metallo per occhiali. Mentre lavora, decide di frequentare i corsi serali dell'Accademia di Brera per l'incisione. Qualche anno più tardi si trasferisce in Trentino, dove lavora come operaio per un anno. La svolta decisiva, però, arriva grazie ad un bando della comunità montana di Agordo, nella provincia di Belluno, che metteva a disposizione gratuitamente terreni ai giovani imprenditori che avessero costituito una nuova azienda. Leonardo del Vecchio, allora, decise di tentare questa nuova opportunità e si trasferisce ad Agordo, dove apre una bottega di montature di occhiali. Nel 1961, Leonardo del Vecchio crea Luxottica Sass, con 14 dipendenti. Nei primi anni produce componenti e accessori per aziende, ma il sogno a cui aspirava era quello di produrre l'occhiale finito e con il suo marchio. Pochi anni dopo tutto ciò diventa realtà ed inizia a produrre a livello nazionale non solo montature, ma anche occhiali completi con il proprio marchio. Nel 1971, Luxottica presenta la sua prima collezione di occhiali alla Mostra Internazionale dell'Ottica di Milano. Il progetto è un successo, tant'è che nel 1981 si lancia nel mercato internazionale. Conquista l'Europa ed arriva fino in America per poi incorporare Ray-Ban, il più famoso marchio mondiale di occhiali da sole. Leonardo del Vecchio è sempre stato lungimirante. Egli infatti intuisce fin da subito l'enorme potenzialità del connubio tra uno strumento di correzione come l'occhiale da vista e l'idea di associarlo ad un'accessoria di moda, collaborando con i migliori stilisti del momento. Sigla così un accordo con George Ormani. Nel 1990, Luxottica viene quotata in borsa, potenziando ancora di più il suo marchio. Negli anni successivi, amplia il suo portafoglio sempre di più, acquisendo marchi come Ray-Ban, Oakley, Vogue Iwer, Persol, Oliver Peoples, Arnett, Costa del Mar e Alain Mikli, sia in licenza come George Ormani, Barberi, Bulgari, Chanel, Dolce Gabbana, Ferrari, Michael Corks, Prada, Ralph Lauren, Tiffany & Co., Valentino e Versace. Nel 2017 viene annunciata la fusione con il gruppo francese Essilor, la multinazionale che produce e vende occhiali e lenti. Essilor Luxottica si chiamerà la nuova prestigiosa holding con sede a Parigi e quotazione in borsa a Parigi. Essa è la più grande nel suo settore a livello mondiale. Secondo Forbes, Leonardo Del Vecchio è il secondo uomo più ricco d'Italia, ma ora svegliamo qualche curiosità che sono sicuro non sai. Devi sapere che Del Vecchio ha sempre creduto nei dipendenti che aveva, tant'è che per i suoi 80 anni ha regalato ai 8.000 dipendenti 40.000 azioni dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro. La vita privata dell'imprenditore è anch'essa ricca di avvenimenti. Egli infatti ha sei figli. Claudio, che dirige il gruppo Books Brothers. Marisa e Paola, nate dal primo matrimonio. Leonardo Maria, avuto con Nicoletta Zampillo, della quale si è separato, ma poi risposato e Luca e Clemente, i più giovani. Leonardo Del Vecchio ci lascia il 27 giugno 2022 all'età di 87 anni, con un gran insegnamento di vita. Se il video ti è piaciuto, faccelo sapere con un bel like e se ancora non lo hai fatto, non c'è momento migliore per iscriverti al canale.